Andiamo a Castellanza sicuramente per dimostrare che il nostro valore non è quello espresso sabato contro settimo in casa nostra. Sappiamo che è un campo difficile perché è una delle informazioni che io davo a inizio campionato come difficile da affrontare in trasferta. Ci tocco in questo momento, vedremo di fare nel miglior modo possibile e sicuramente andiamo là per fare il risultato. Che squadra ti aspetti? Una squadra che avete già affrontato per campionato, non fa testo Maurizio? Per campionato non fa testo, le partite che giochi a settembre valgono meno di niente. Alla fine non dobbiamo basarci su quella partita perché l'oro sicuramente sono... Ambiente caldo comunque Castellanza? Ambiente caldo, sì, palazzetto grande, quindi bisogna anche trovare in un attimo i riferimenti. Non penso sia un grosso problema quello, l'unica cosa è che ci troveremo di fronte a una formazione agguerrita perché comunque essendo appagliati in classifica tutti e due ci teniamo a far bene, quindi chi vince va avanti chiaramente. Quindi per questo sicuramente giocheremo alla morte siano di che loro. Grazie. 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 Grazie.